musica io mi sa che mi svaliggio tutte le case adesso svaliggio tutte le case della costa quello è addormentato lì, Baxter minchia questo è più difficile raga ho dovuto iniziare ancora ho dovuto iniziare ancora si è rotto, 1,2,3,4 si è aperto ragazzi domani si sveglieranno tutti con tanti problemi bello che le guardie sono lì mi porto via tutto mi devo segnare poi le case che ho svaliggiato pure la padella ti fotto qua ciao ciao finita male amica trafugare nell'erba ragazzi sempre conviene sempre possono trovare oggetti misteriosi quindi conviene controllare certo magari di giorno e non la notte fonda ora non è l'ora di farlo ho trovato una guardia nell'erba questo è quello che ho trovato prima l'altra volta si l'avevo trovato prima sto scrigno se entro qua mi fa nel culo devo trovare un modo ragazzi per entrare e rubare qualcosa di danno in sto tempio adesso mi lascio entrare raga sono stato convocato dall'ordine ma non ci vado raga neanche per sogno vado a optare ragazzi per controllare le altre missioni, le altre case visto che sto approfondendo la questione di notte voglio derubare le case raga riguardo ai tuoi figli quando sei disposto a pagare per queste informazioni? io non ho niente di oro sì io ho un po' di solito per un giorno di regno c'è un po' di schienze e li ho scoperto dietro a parte della farmia quale è tua farmia? la farmia sul pietro al monastero un'inquisizione di combattimento chiamato Severin è in charge ok informazioni particolari, utili bravo Paolo, conservali che fino a fine settimana ti consiglio di partecipare pure al ride di fine live perchè quello ti fa beccare 300 punti di bot quindi ti consiglio di tenerli stretti lo sai che Epic stava comprando Minecraft? oh dopo dieci anni ci sta che lo comprano ok raga io qua qualcosa l'ho fatta sono pronto a seguire Garth visto che è mezzanotte ragazzi possiamo seguire Garth è quello lì ragazzi è quello lì ragazzi non ho Grazie a tutti. No, nessuno sospetta di me, ragazzi. Vediamo dove va questa missione di pedinamento, ragazzi. No, no, non è un momento. Cazzo, me l'ha fatto perdere. Vediamo, ragazzi, si sta facendo il giro del mondo questo qua. Eh, lo so, ragazzi, è di notte così il gioco. Purtroppo questa missione si deve fare per forza di notte. È buia l'immagine, lo so. Ecco lì. Salvo, ragazzi, su un file in più. Faccio questo test 2021. Così, a me non so se devo intervenire, devo avvicinarmi. Che non vorrei che salta la missione. Tu, coi capelli. I think you about nosing in everyone's business. People don't like people's noses being stuck into other people's business. Hand over the packages you took. Sure you want to do? Absolutely. Then you leave me no choice. Garth, get him. Shut his flap time for a little lesson. Andi a due contro uno, eh? Questa è difficile, ragazzi. Get in there! Forza. Trombatti, stronzo. Get in there! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ah! Oh, oh! Andi a few coins for me. No. Questa è difficile, ragazzi. Mi serve più... E due contro uno, ragazzi. È tosta. Se no, devo cercare una posizione di vantaggio e mettermi con la balestra. F***. Yeah. Vieni, 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 io vi botto io a voi. Yeah. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni qua so. Dai. Vediamo se saldano. Dai, io voglio qua io. Ho il mio arco. Minchia, ho so salito L'ho rapinato ragazzi perchè altrimenti eventualmente se lo batto Lui non ha un compagno per difendersi idas Wow I gotta do that rupt stop dei Ah! Maledetto! Ce l'abbiamo fatta, ragà! Dai! Ehm... Al monastero eh! Drogati! Dobbiamo beccare quell'altro, ragà! Non lo sento! Cazzo è andato quello la? Chissate tornate indietro o dove dormire in qualche stanza di queste? Perché poi dobbiamo rapinare tutto, ragà! Cazzo è andato quello la? Quella è induta tranquillità, ragazzi! È andata a casa! Cazzo è andato! Ehm... 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 Vieni qua, che dobbiamo parlare! Mi ha costretto lui! Ehm... 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 Cazzo è andato... no vabbè ma Paolo non è un problema piano piano vanno aggiornandosi non ti preoccupare no, ci sono due tanti aiutati ci sono Conrad, il mercato di mercato si compra da i agricoli e vendono a una grande e ci sono Alvara, il mercato se l'unico smith in la stessa funziona per lui come ho ricordato da i due mercato? prima, facci un'occhiamento, parlare con loro potremmo si... devi sapere cosa stia guardando quattro problemi hanno e... noi sappiamo che sono le mali Gli rubiamo la sua roba stessa E gliela rivendiamo Un trucco vecchio come la barba nel mondo Ok vado a ricaricarmi la salute Vado stavolta a dormire Così giochiamo di giorno Andiamo a recuperare La nostra salute E passano i giorni ragazzi E ancora piove? No Il mare è calmo Salviamo Stavolta sul sabotaggio giusto Allora le missioni ragazzi Iniziano a diventare tantine Nella vecchia casa del don c'è una strada segreta L'indirittore per aprirla è nascosta dietro il quadro Questa cosa non l'ho vista Ma sicuro? Dietro un quadro Ah del don no del pirata Prima è entrarci dentro la casa del don Dicevo controlliamo le altre Poi ci abbiamo I figli di Tilda Beppo, William e Leon Tito vuole sapere come stanno Sbarazzati di Tony Il grande suo volo è una mano per liberarsi di Tony Poi Sid crede che lui ti sta dando la caccia Scopri cosa sta architettando Ma ce l'hai da spennare Devo parlare quindi con Perché io ho tolto l'oro C'era la missione quella del baule Che l'ho recuperato l'oro Aspetta eh Ma tanto non parlo col me Non parlo col me Ah 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 This is getting better Ah Ah At him Ah Ah I want to see blood Ah 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 Yeehaaah! Ah! Ah! Cioè, missione compiuta, ballai con i macellai. Perché fai i ballai con i macellai? Cazzo di missione, eh? Ah! Cioè, cosa vuoi qui? Stai dolendo ora. Io lo prenderò. Non ti pagare. Non ti pagare. Non ti pagare. Niente da fare, ragà. Non lo so, sta missione non mi piace completarla così. Il fatto che si annulli, vuol dire che c'è qualcosa che devo fare in più. Quindi, per adesso non la completo in questa maniera. ... 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